ciao ragazzi la storia di oggi è un po più impegnativa è per i ragazzi un po più grandicelli ha un finale meraviglioso adatto a tutti anche per i più piccolini ve la leggo da questo libricino qui si chiama il libro di tutte le cose è un piccolo estratto da un dal primo capitolo ve la leggo non essere triste su disse la signora van armertford si alzò e indicò una valigetta blu eccola mai visto questo aprì la valigetta thomas annui era un grammofono portatile ti faccio sentire una cosa la signora girò con forza una manovella e poi mise un disco la stanza si riempì di una musica che veniva da lontano una musica che thomas non aveva mai sentito prima con molti violini la tristezza si sciolse e si dileguò dalla gola e dalla pancia thomas chiuse gli occhi e lì nel buio dietro le palpebre che apparve inaspettatamente il signor gesù thomas si prese un bello spavento ma continuò a tenere gli occhi chiusi perché era curioso di sapere che cosa avesse da dirgli gesù gesù sorrise e disse non mi lascerò mettere in croce mai più mi rifiuto ne ho avuto davvero abbastanza poi sparì con la stessa rapidità con cui era venuto questa era una bella notizia anche per il maestro onestine così non avrebbe dovuto raccontare quella storia tremenda mai più thomas si sentì intensamente felice bello è sussurrò la signora van armerford sì disse thomas le orecchie ricominciarono a ronzargli il mappamondo con il gatto e tutto il resto cominciò a ruotare intorno al proprio asse thomas stava per dirlo alla signora van armerford ma si accorse che anche la pesante sedia su cui era seduta lei stava fluttuando sopra il pavimento come una nuvola bassa non appena se ne rese conto sentì che anche la propria sedia con le gambe a zampa di leone si stava innalzando maestosamente come solavata da mani forti aveva voglia di gridare di gioia ma quando vide l'espressione assorta dalla signora van armerford capì che era normale che con questa musica le sedie si mettessero a fluttuare nell'aria beethoven sussurrò la signora van armerford quando l'ascoltò non finì la frase e non occorreva farlo perché thomas sapeva esattamente quello che voleva dire anche se lui non riusciva a trovare le parole volò via con la fantasia e vide se stesso fluttuare sopra campi verdeggianti e un castello con una rolls royce parcheggiata davanti al portone una principessa bellissima lo savlutava con un fazzoletto bianco aveva una gamba di cuoio che scricchiolava quando camminava indossava un vestito celeste con un colletto bianco suo padre sulla scalinata d'ingresso suonava il violino mentre sua madre lo accompagnava cantando con grazia il disco finì in stridette thomas trassalì ploff le sedie atterrarono delicatamente sul tappeto la signora van armerford si sarà accorta che stavamo fluttuando si domandò thomas non lo sapeva aspettò che magari lei dicesse qualche cosa ma non disse nulla guardava in lontananza forse pensava suo marito che era stato fucilato thomas beve un sorso di aranciata e disse quanti libri che ha di che cosa parlano santo cielo esclamò la signora van armerford ma di che cosa parlano i libri parlano di tutto quello che c'è ti piace leggere thomas annui aspetta la signora van armerford si alzò forse ha qualcosa per te si diresse verso uno degli scaffali che cosa vuoi diventare da grande domandò felice rispose thomas da grande diventerò felice spero che vi sia piaciuto questo piccolo brano a me è piaciuto tantissimo ciao ragazzi alla prossima